Bene ragazzi quindi benvenuti in questo video, noi siamo qua in questo video per andare a parlare di un'ufficialità in casa regina perché è arrivata finalmente un'ufficialità di Mikovishi, dovrebbe dirsi così, centrocampista classe 99 che quindi arriva in prestito dal Genoa alla regina. Colpo Regretti secondo me interessante, sicuramente un giocatore di buon livello non è che sicuramente uno che sei sicuro, è una scommessa perché comunque si parla di scommessa che si è l'anno scorso fatto bene all'Avellino e praticamente nient'altro, quindi non è che è un giocatore di categoria di ottimo colpo è una scommessa, giovane, interessante, potrebbe sicuramente far bene in un reparto di centrocampo che sicuramente andava rinforzato per via dei, proprio numerico perché comunque sì ci sono i vari bianchi, crisi tigre e de rose ma siamo abbastanza corti lì al centrocampo dovrebbe rientrare Fatini nei prossimi giorni ma ancora sicuramente dopo un infortunio pesante sarà difficile averlo al 100% quindi Mikovic è un colpo interessante che potremmo già poter utilizzare poi alla ripresa quindi sicuramente è un colpo che potrebbe dare veramente una grande mano sinceramente ripeto a me come profilo piace, è un giocatore interessante, non è un fenomeno è un buon centrocampista che sicuramente potrebbe dare una mano importante arriva in prestito e vediamo un po' se comunque Reggino potrebbe già chiudere anche altri colpi comunque a questo punto riazzi mi fermo, video molto breve per parlare quindi un po' di Mikovic che è quindi ufficiale la reggina ripresa di Total Genoa a questo punto riazzi mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video ciao ragazzi